ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al nuovo oris aquis è appena uscito a watch and wonders del 2024 ad aprile è uscita la nuova versione il nuovo modello dell'oris aquis il diver professionale di casa oris ora quando è uscito io sono stato un quarto d'ora di fronte allo schermo così con il punto interrogativo la bolla al naso e la baveta di fianco per cercare di capire dove fossero le novità quelle fossero le differenze rispetto a quello vecchio a me mi sembrava lo stesso detto ma com'è uscito un aquis nuovo a me mi sembra uguale un quarto d'ora quindi il mio dubbio la mia curiosità era capire dove è la differenza no e ora il buon giacomo cioè che il titolare della gioielleria pasquale domenici che parte un ufficiale del canale lo sapete e mi ha messo a disposizione entrambi gli orologi il modello vecchio 2023 e il modello nuovo 2024 così che io potessi valutare proprio con mano toccare le differenze tra i due modelli e e spiegarvele anche a voi insomma questo qua vuole essere un video un pochino differente dal solito infatti gli orologi ce li ho qua eccoli qua i due simpatici orologi quello con i quadranti a blu e quello vecchio e sono entrambi quelli la versione da 41.5 mm nominali con il calibro sillite sv200 ce li ho qua e questo video sarà leggermente diverso dal solito ve li mostro qua direttamente proprio in un video di da scalico proprio di numeri di differenze scopri la differenza come nelle parole crociate insomma nei giornaletti quelli no dei cruciverba come si dice quelli lì ora il punto quale che io ho già fatto diverse volte la recensione del oris acquist una due come minimo forse anche tre tra versioni particolari speciali edizioni limitate bla bla quindi se voi volete le macro immagini quelle belle dettagliate andate a vedere quelle recensioni lì che valgono tuttora valgono quando starò a fare le macro a spiegare come fatto l'orologio il calibro bla 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 qua mostro le differenze tra uno e l'altro di da scalico matematica un video molto semplice ora eccomi e poi mi occorre ricordarvi il quinto watch meeting cioè amici miei domenica 12 maggio ora la prossima domenica ci sarà il quinto raduno del canale vi aspetto a viareggio alle ore 15 presso la gioielleria pasquali domenici nella zona antistante ci incontreremo facciamo un raduno diamo un volto ai nicknemi che compaiono sotto al video parliamo di orologi proviamo gli orologi guardiamo gli orologi entriamo nel negozio proviamo gli orologi ci saranno poi vulcane longin oris che è sponsor ufficiale della manifestazione orologi caramai l'amico umberto pellizzari noto apnista è un regalino per tutti voi una bella polo da portarvi a casa venite vi aspetto ora detto questo colgo anche l'occasione visto che siamo in questa situazione qua particolare per mostrarvi un barbatrucco un barbatrucco che ho scoperto io a riguardo dei cinturini nato no tanto siamo qua in questa situazione particolare e io ne approfitto perché non volevo spiegarlo ma non lo non trovavo la situazione quindi qua visto che ho la camera in questo modo posso farvela vedere allora nato cinturini nato questo è un cinturino nato normale come nasce nuovo di pacca eccolo qua a questo spezzone interno che serve poi per fare tutto quel rigiro classico dei cinturini nato che io odio detesto quindi io solitamente taglio questo spezzone lo taglio lo trasformo in single pass così un'unica diventa un'unica unica striscia di tessuto di nylon e lo faccio passare single pass al di sotto dell'orologio come vedete questi due passanti sono fissi sono cuciti all'interno no bene io nel fare questa modifica al nato blu che ho montato sul maco ho tagliato il pezzo interno e per errore ho tagliato anche il punto nel quale è cucito il passante fisso quindi questo qua mi va a ciondoloni va a ciondoloni come si suol dire in italiano ciondoloni nel mare nel nel nato ecco da questo errore è nata invece una cosa positiva perché nel momento in cui io vado a chiudere il cinturino come dio comanda io posso approfittare della mobilità di questo passante per lo dove meglio credo e per poi fare il giro e bloccarlo così in questo modo il passante mi funge veramente da situazione ideale eccolo qua e questa parte qua va sotto al polso come fosse un cinturino normale abbiamo il vantaggio del cinturino nato perché se si stacca un'ansa l'orologio non si perde e più questa simpatica chiusura quindi quello che volevo dire è che sbagliando si imparano ho fatto un errore ho tagliato troppo ho lasciato libero il passante e invece ho scoperto che è una situazione veramente positiva detto questo adesso ci mettiamo i guantini da ispezione e andiamo a vedere due orologi le misure dei due modelli sono alquanto simili ma non identiche si tratta della versione da 41.5 mm nominali ma in realtà la cassa è poco sotto i 41 in quanto è il diametro ghiera a dare l'ingombro totale diametro ghiera che nel modello nuovo è leggermente inferiore di qualche decimo un valore quasi insignificante che però è ben notabile nel momento in cui osserviamo dalla parte inferiore lo sbalzo ridotto del 2024 è percevibile sia ad occhio nudo che dal tatto c'è poi da sottolineare che anche il lato a cambia in qualcosina abbiamo un diametro quadrante cioè del vetro più grande nel modello 2024 ossia 30.9 contro 30.7 e di conseguenza un inserto ghiera più stretto sono pochi decimi ma vi assicuro che si percepisce anche ad occhio nudo soprattutto se poi osserviamo le cifre che sono più piccole e gentili rispetto a quelle del modello del 2023 anche il dot ad ore 12 e il triangolo sono più piccoli insomma una riduzione totale delle dimensioni anche se di poco con un occhio di riguardo all'ingentilimento dell'inserto ghiera un addolcimento di proporzioni generale che nell'insieme viene subito percepito anche se poi occorre agguzzare la vista per poter discernere il dove e il come ma ciò che è più evidente è il cambiamento avvenuto nel profilo laterale molto più sottile rispetto al precedente attenzione lo spessore globale dell'orologio è lo stesso 13 mm è solamente il lato carour a passare da 9.6 a 8.8 si nota chiaramente che i decimi mancanti sono stati spostati sul fondello e in parte sulla ghiera si nota una certa differenza laddove la vecchia ghiera appare più schiacciata e quella nuova più angolata ci sono poi due elementi che sono palesemente differenti guardate come le anse del nuovo sono molto più sottili e slanciate qui si sono guadagnati 5 decimi per parte di lag to lag ma il risultato è sicuramente più armonioso rispetto all'aspetto tozzo del modello 2023 inoltre le spallette di protezione corona che da sempre rappresentano un tratto distintivo dell'acquis anche esse più sottili e con un nuovo design particolarmente apprezzabile guardandole dal di sotto una sagomatura differente che mette in evidenza anche una corona meno sporgente più compatta ma visto che abbiamo parlato delle anse del lag to lag ha aumentato andiamo a vedere sul lato A qual è l'effetto ottenuto ed eccolo lì nel modello 2024 è chiaramente visibile una maggiore superficie al di sopra delle anse quasi come fosse una cassa canonica insomma il vecchio aquis è più un tondo con quattro zampette che spuntano fuori mentre il nuovo quello del 2024 ha questa superficie ampliata delle anse quasi a cassa normale e poi lo si nota anche che qua l'assenza del segmento che unisce le due anse mentre qui è presente un segmento che unisce quindi forma una cassa praticamente quasi standard diciamo ma ruotiamo l'orologio e vediamo se sul lato bici offre qualcosa di differente qualcosa da notare sul nuovo abbiamo un fondello di diametro maggiorato di due decimi di millimetro e un diametro del vetro zaffero aumentato anch'esso di due decimi di millimetro lo si vede benissimo che qua va a filo cassa mentre qua lascia scoperto un segmento del fondo cassa in realtà non è dovuto solamente al diametro maggiore ma anche ad un ampio bisello che va a fare la scivolo tra il lato carrur e il fondello stesso una soluzione che coniuga sia la resa visiva che l'utilità di ridurre il profilo cassa per quanto riguarda il quadrante invece possiamo notare alcune piccolissime differenze in primis il gioco sfere la sagoma è la stessa ma sia la sfera ore che quella minuti appaiono smagrite più sottili cioè particolarmente evidente con quella ore un po meno con quella minuti l'ideale sarebbe poterle misurare ma la cosa non è fattibile altro punto divergente è rappresentato dalle deciture 30 bar 300 metri su quello nuovo ad onore del vero ho come l'impressione che l'intera sezione sia leggermente più piccola il font ridotto ma mi è veramente difficile darlo per vero quindi prendetelo con beneficio di inventario le modifiche non finiscono qua perché anche bracciale vede qualche cambiamento è più sottile di due decimi ed ogni maglia è più lunga rispetto alla omologa del vecchio bracciale sia quindi un insieme meno tozzo e meno effetto cingolo un bracciale più slanciato rastremano entrambi allo stesso modo ciò che cambia invece è la larghezza della scatoletta che passa dai 17 7 del vecchio modello ai 18 5 del nuovo cosa che si nota maggiormente andando ad osservare la parete interna della scatoletta che è più fine in quello vecchio e leggermente più spessa in quello nuovo questo consente anche di avere un bisello di maggiore entità sulla clasp sulla chiusura del nuovo modello un bisello veramente più accentuato che praticamente trasforma un pochino il pregio di quest'ultimo dettaglio volendo fargli le pulci possiamo notare che cambia anche il profilo dei pulsantini di sganciamento molto più oblungo quello del modello vecchio e meno vale quello del modello nuovo e niente tutto qua tutto qua esattamente tutto qua praticamente abbiamo visto le differenze nei piccoli particolari tra i due orologi tra i due oris aquis e abbiamo scoperto che praticamente a prima vista sembrano uguali sembrano i dentici invece ci sono una miriade di piccoli particolari ma che si parla anche di decimi di millimetro che però fanno la differenza lo rendono più strecciato più 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 sottile più lungo ma quasi in tutte le sue particolarità dalle sfere al lato cassa al bracciale tutto più sfinato e più strecciato mi viene altro termine da dire stretching bello orologio ora qual è il punto che si tratta di una possiamo dire un restyling ora di solito le case quando fanno un restyling cercano di farci vedere qualcosa di particolarmente accattivante no cambiano molte cose cambiano il quadrante cambiano tanti particolari subito visibili in modo da attirare il possibile acquirente a questo nuovo modello qui in casa oris hanno invece deciso di optare per un restyling leggero no perché poi vi spiegherò perché non è leggero di un restyling che non comporta un una nuova facciata è rischioso però significa che loro credono molto nel design dell'aquis perché altrimenti lo avrebbero stravolto se non ci credessero invece è identico praticamente al modello precedente ma con delle migliorie e queste migliorie ecco perché dico che non è restyling semplice in realtà comporta tutta una reingegnerizzazione del modello perché la cassa è completamente stata ridisegnata e ricreata da zero fondello ricreato da zero il bracciale creato da zero cioè non qua non si tratta di cambiare una ghiera metterla colorata sul modello vecchio o un quadrante con tutto l'intelaiatura che rimane la stessa qua è cambiato tutto è cambiato tutto senza però stravolgerlo quindi c'è stato un notevole sforzo tecnologico tecnico per creare questo nuovo modello che è quello nero non devo confondermi vedete mi confondo anche che è quello nero rispetto a quello blu tutto uno sforzo tecnologico è un pochino come quando ora i restyling di automobili come avvengono di solito no il restyling di mezza vita cambiano i paraurti cambiano i cerchi cambiano lo spoiler ma la struttura del telaio rimane lo stesso no in questo caso il restyling di mezza vita se vogliamo chiamarlo così non è un restyling di mezza vita hanno cambiato proprio il telaio la struttura hanno cambiato tutto per assurdo lasciando il paraurto identico perché quadrante identico all'altro non so se mi sono spiegato comunque io provo questa nuova scelta perché lo rende leggermente più filante un pochino più cioè c'è una maggiore attenzione all'ergonomia pur rimanendo un orologio un tool watch no l'aspetto carro armato ce l'ha ancora ce l'ha ancora però è ingentilito è ingentilito con queste smussature qua laterali sul lato carruro le spallette di protezione più sottili bello secondo me promosso c'è anche da dire che costa 100 euro in più cosa pensate che a voi vi regalano le migliorie ma non che non le regalano costava 2300 quello vecchio 2400 quello nuovo poi amici voi contattate il buon giacomo vedrete che lui quelle 100 euro li ve le toglie perché è un bravo ragazzo lo so ragazzi mi sembra di aver detto tutto io sono soddisfatto di essere riuscito a percepire a capire dove erano le differenze perché non è stato facile col calibro i decimi cioè basta spostarlo di leggermente e vanno via cioè riuscire a capire veramente dove sono le differenze è stata dura ve lo dico è stato un lavoraccio altrimenti qualcuno deve pur farlo non mi resta quindi che ringraziarvi per essere arrivati fino qua spero vi sia piaciuto il video e gli orologi e anche il mio trucchetto sul nato che quello lì si porta sempre a casa vi ricordo quindi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao